Lega Nord su tutte le furie per un nuovo bando europeo della prefettura destinato all'accoglienza dei migranti in provincia di Como. Il documento è stato pubblicato nelle scorse ore e prevede uno stanziamento di circa 59 milioni di euro per un periodo massimo che arriva a giugno 2018. In altri termini, 45 milioni sono previsti per l'accoglienza fino al 31 dicembre 2017, ma nel bando si parla chiaramente della possibilità di una deroga di altri sei mesi per altri 13 milioni erotti di investimento. Il numero complessivo dei posti di cui si chiede la disponibilità è per 2100 persone, ovvero il 20% in più rispetto ai numeri fino al 31 dicembre 2016. Nello specifico, l'accoglienza è rivolta a cittadini stranieri già ospitati presso strutture temporanee che non è stato possibile trasferire nella rete Sprar e per cui non sono stati ancora conclusi gli iter sulle domande di asilo e regolarizzazione. Per quanto riguarda le strutture ricercate dalla prefettura, nel documento si parla di piccole e medie dimensioni con una capienza massima di 300 persone. Le offerte per i soggetti interessati dovranno arrivare alla prefettura di Como entro il 12 maggio prossimo. Come detto, su tutte le furie la Lega Nord attraverso il deputato Nicola Molteni. Una montagna di quattrini per presunti finti profughi, ha scritto in una nota il parlamentare. Questo è razzismo al contrario nei confronti dei comaschi. Grazie. Grazie.